Applausi Applausi Ran ipp go Applausi 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 Rai, ritrovi e riuscire! Non riuscire! Rai, ritrovi e riuscire! Rai, ritrovi e riuscire! Voi, riuscire! Non ci sono i raggiunti! Rai, ritrovi e riuscire! 10 minuti, 1. gol per il nostro MFC Basel. E' la giù con la numero 8, Gigi Sundov. E' la passata numero 6, Jasmin Bunter. Rai, arrivi! Rai, arrivi! Rai, arrivi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.